Presepi, mostre, momenti culturali, concerti e molto altro. È il Natale a Scalea, un programma ricco di eventi e manifestazioni organizzati dall'amministrazione comunale e dalle associazioni locali. Anche quest'anno abbiamo messo a punto un buon calendario di eventi, nonostante il periodo è quello che è. È un programma molto interessante che abbraccia tutti gli aspetti culturali tipici della nostra Scalea. Lo abbiamo fatto insieme a tante associazioni che come al solito danno un valido contributo al fine di poter concretizzare questa voglia di fare. Cerchiamo di allietare queste feste con tante attività. I momenti culturali sono stati affidati alla Proloco. Il nostro programma prosegue con la presentazione del libro del professore Galiano, il 16 nella biblioteca comunale, Le più belle anime di Scalea. Continuerà il 19 con un libro, una storia di una donna che ha scritto la dottoressa Donofrio. E poi il 20 con Monsignor Bono Araugio che presenta il suo libro. Concluderemo con il concerto del coro polifonico Laudate Dominum di Praia. Novità dell'anno, Scalea in miniatura. Una fedele riproduzione della cittadina tirrenica a Comera tra il 1890 e il 1944. Ideata dall'associazione Cara Vecchia Scalea e realizzata dall'artista Carmelo Cavaliere. Ho realizzato finalmente Scalea come l'ho visto io 40 anni, 50 anni fa. Mi fa piacere che un sacco di gente sta venendo a ammirarla veramente. Come associazione certamente cerchiamo di favorire al massimo quelli che sono i valori e le tradizioni di Scalea. Ad affascinare i cittadini e i turisti i tradizionali presepi. Verrà inaugurato il 17 il presepe di Torre Talao curato dall'associazione Vita Azzurra. È un presepe che ormai si è consolidato nel corso del tempo. Invece è già visitabile il presepe nel centro storico di Scalea, presso il palazzo Ciali Mezza Roma, allestito dagli amici di Scalea, un'altra associazione che già da anni sta portando avanti questo progetto. Devo dire che quest'anno ha addestato molto interesse per come è stato ben allestito in alcuni locali storici di questo palazzo. Poi ci sono vari altri presepi che possono essere visitati in tutte le ore del giorno e sono dislocati ovviamente nelle varie chiese.